Bene, allora buongiorno di nuovo, ben ritrovati. Stiamo parlando della programmazione orientata agli oggetti. Gli argomenti di questa settimana saranno il concetto di ereditarietà, quindi parleremo delle classi derivate, e anche un po' il concetto di polimorfismo. Però prima di addentrarci in questi due concetti, soprattutto il primo, il più importante, l'ereditarietà, che costituiscono uno degli argomenti di forza, di punti di forza della programmazione orientata agli oggetti, ho pensato che, siccome l'altra volta sono andato un po' veloce, insomma tanta superficialità non mi sembra il caso di tenerla, ma abbiamo un pochetto di tempo. Oggi sarà quindi una lezione di ripasso, approfondimento sul concetto di classe. Invece che stare a guardare le slide, vediamo direttamente con la programmazione mediatale da metterci con la testa più su questo argomento. Argomento che, ripeto, non ho mai dato nella prova di programmazione, ma sarà sicuramente presente nella prova di teoria. Quindi ci sarà sostanzialmente qualche quiz, tipo quelle cose che stiamo per vedere proprio oggi. Va bene? Allora, non so se di lato si vede, ingrandisco un pochino. Allora, ho preparato un pochino di materiale per farci un po' di esperimenti, ragionarci su e fare qualche domandina, qualche quiz. In previsione del proprio quiz d'esame. Allora, stiamo parlando del fatto che abbiamo, vi ricorderete chi c'era la settimana scorsa, nella programmazione orientata agli oggetti, di cui il C++ è un supporto, abbiamo anche discusso sulla validità di questo la settimana scorsa, però certamente forse è un po' macchinoso il C++ rispetto ad altri linguaggi che sono nati espressamente per la programmazione orientata agli oggetti, però certamente non gli manca niente come potenza, come al solito, la filosofia è sempre la stessa. Un po' di macchinosità, ma la capacità di poter fare tutto. Il concetto fondamentale è quello di mettere dentro la struttura, che a questo punto diventa classe, anche le funzioni che lavorano sui dati della struttura, che diventano nel concetto di classe attributi. Quindi l'altra volta abbiamo visto come per esempio concepire una classe numero razionale, in cui i valori che costiscono gli attributi sono due interi, numeratore e denominatore, e poi abbiamo detto che possiamo associare a questa classe una serie di metodi, si chiamano così le funzioni, vi ricordo, che stanno dentro la classe, converti, che significa fai la divisione fra numeratore e denominatore, restituisci il float, il double in questo caso, inverti, cambia il numeratore col denominatore, stampa, fai una stampa decente, eccola qui, numeratore, poi il denominatore del numero razionale. Con questo concetto di classe, di numero razionale, che poi si potrà arricchire di altre funzioni, vogliamo fare degli esperimenti per, ripeto, addentrarci sul concetto di classe. E l'altra volta abbiamo anche visto come si organizza il materiale normalmente in file di un'applicazione orientata agli oggetti. Abbiamo detto l'altra volta che ci sarà un file di intestazione che conterrà sostanzialmente questa cosa che ho evidenziato adesso in grigio, e cioè la definizione dei prototipi, delle funzioni, dei metodi, della definizione della classe con i prototipi, e questo sarà in un file .h, con il nome della classe, per esempio in questo caso razionale, razionale.h. Ci sarà un altro file in cui, come .cpp, ci sarà proprio il codice dei metodi della classe. E questo sarà quello che eventualmente potete rilasciare in versione codice oggetto, qualora non aveste intenzione a rilasciare il sorgente. Poi, la terza parte è quella fatta da un altro programmatore, che sarà l'utente della vostra classe, che sarà il programma con il main. La programmazione delle classi non c'ha il main, ovviamente, c'ha solo la definizione delle classi, non fa il .h, e la specifica del codice delle funzioni delle classi non fa il .cpp. Questa qui normalmente viene chiamata cliente della classe, perché sarebbe un programma fatto da chi utilizzerà la vostra classe. Voi siete i programmatori della classe, normalmente, che andate a vendere la classe. Questo qui è chi sta utilizzando, il main l'ha fatto a chi utilizza la vostra classe. Ovviamente potete anche essere entrambi, in questo caso siamo tutti quanti noi. E poi, per semplicità, ho messo tutto su un file, per avere tutto sott'occhio, per poter controllare sullo sviluppo. Detto questo, abbiamo questa applicazione cliente, che cosa fa? Definisce, a questo punto, non diciamo più una variabile X del tipo, ma diciamo un oggetto X della classe razionale. E poi va a valorizzare i due attributi, numeratore e denominatore, di questo oggetto. E poi fa partire il metodo stampa, come abbiamo visto l'altra volta, fa partire il metodo converti e fa partire il metodo inverti. Questo esercizio l'abbiamo già visto l'altra volta. Solo che a termine dell'altra volta, abbiamo anche detto che nella definizione delle classi esistono gli specificatori cosiddetti di accesso, ne esistono tre, public, private e protected, che non abbiamo visto, ne abbiamo solo detto che c'è, ma non abbiamo visto perché ancora non sappiamo a cosa possa servire. C'ho bisogno prima di parlare delle classi derivate per poterne parlare. Ma i più importanti, indubbiamente, sono public e private. Public vuol dire che tutto ciò che è nella sezione public è accessibile dall'esterno della classe. Cioè l'applicazione cliente lo può effettivamente accedere quel componente, sia esso un metodo o un attributo. Viceversa, tutto ciò che è nella sezione private non può essere acceduto dall'esterno. Ci possono essere, normalmente ci stanno degli attributi, ma ci possono anche stare delle funzioni. In questo caso ci sono solo due attributi, numeratore e denominatore. Allora ecco, vi suona questa applicazione main? Questo è il primo quiz, tipico quiz un po' banalotto, che potrebbe starci in una prova d'esame. Vi suona compila o non compila? Perché non compila? Esatto, il problema qui di questa applicazione cliente è che sta andando ad accedere, l'applicazione cliente, a due componenti, num e den, che sono due attributi. Potrebbero anche essere stati due funzioni, due metodi, ma in questo caso sono due attributi. La cosa importante è che stanno nella sezione private e quindi non possono essere acceduti dal codice cliente. Quindi se adesso noi andiamo a compilare, ci dirà che, si arrabbia, perché dice num è private e tu indi tu, client, non ci puoi accedere. E allora non si può fare. Qual è il senso di questo? Il senso di questo è collegato al concetto di incapsulamento e soprattutto di information hiding, cioè nascondimento dell'informazione. Cioè chi ha programmato la classe ha ritenuto che numeratore e denominatore, così come l'ha implementato lui, se ha scelto un int, un flot, se si chiama num, se si chiama numeratore, se si chiama... Non deve essere informazione significativa per chi quella classe la utilizzerà, cioè per chi programma il client. Non deve sapere come è strutturata la classe dentro, la deve solo saper utilizzare. Tu non devi sapere come è fatta l'automobile, la devi saper guidare. Io ti devo dare il manuale dell'automobile quando te la vendo, manuale d'uso, a parte scuola guida avrà imparato le cose fondamentali, poi non è che ti devo specificare come è fatta dentro. Io ingegnere che ho progettato l'automobile. Tu però ti devo mettere nelle condizioni di poterla usare. Certi particolari te li nascondo. Perché tu non devi andare a fare dei danni, perché non sapendo come usarli potresti andare a fare delle cose prive di significato. E comunque ti semplifico la vita, perché ti dico tu solo questo devi sapere, della mia classe. Allora, come si risolve questo problema? Allora, un modo ovviamente che non ha senso è mettere nume den nella sezione public, perché se l'ho messo nella sezione private, vuol dire che c'è i miei motivi per farlo. rimanendo lì nume den, che posso fare? Allora, siamo andati già avanti con questa prima risposta, perché abbiamo parlato di costruttore. Un metodo innanzitutto più intuitivo, forse il primo che può venire in mente, è usare un metodo, scusate la ripetizione, che vada ad agire su gli attributi private, in questo caso per esempio valorizzandoli, o anche leggendoli, dopo vediamo, ma che questo metodo però deve stare nella sezione public, altrimenti io non lo potrei utilizzare. Per esempio potrei definire, faccio prima, scusate, me la sono già, posso scrivere, mi definisco un metodo assegna, per esempio, che nel prototipo ci metto che prende due interi, non restituisce niente, quindi sarà una procedura, e poi me la vado a implementare, dove è? Eccola qua, è una procedura, fa riferimento alla classe razionale, due punti, due punti, per associare questa procedura, assegna alla classe a cui lei appartiene, di cui lei è il metodo, e in maniera congrua con quello che ho specificato nel prototipo, int, int, prende un intero al primo argomento, che lo chiamo numeratore, un intero al secondo argomento, lo chiamo denominatore, e poi dico, num, che è l'attributo privato della classe, prende come valore ciò che gli viene passato al primo argomento, a questa procedura, e then, prende come valore ciò che viene passato al secondo argomento. Allora, questa procedura si trova nella parte public, e quindi, è accessibile dall'applicazione client, della classe. L'applicazione client, eccola qui, è il main, quindi come prima, definiamo un oggetto di tipo, di classe, razionale, e poi, invece che andare a scrivere num uguale 22, then uguale 7, scriviamo x.assegna, cioè chiamiamo il metodo assegna dell'oggetto x, lo possiamo fare perché assegna il public, scusate se ripeto, vi faccio addormentare, ma ripetita io vant, e poi gli passo i valori che volevo mettere in quei due parametri, in quei due attributi. Questa funziona, o pensate che non funzioni? Funziona, tutti d'accordo sul fatto che funziona? Immagino. La compiliamo, andiamo a seguire. Allora, che cosa succede? Vedete, io ho mandato due istruzioni di stampa, non ve l'avevo detto, ricordiamo l'applicazione, stampa x uguale, e poi lancio il metodo stampa, metodo stampa, eccolo qui, stampa il numeratore e il denominatore, doom e den, inframmezzati dalla slash, poi, effetto la conversione, ce l'ho messo converti, ce l'ho messo, eccolo qui, converti, fa il rapporto fra num e dem, e restituisce in double la divisione, inverti, e quindi inverti, lo riguardiamo, fa lo swap del numeratore e denominatore, e poi di nuovo la stampa, l'ha fatto? Ha fatto tutto, solo che non è andata a capo, allora, andiamo qui su stampa, ci mettiamo un endline, ancora non mi piace, perché questo uguale qui, non si capisce che cos'è, questa è la prima stampa, questa è la stampa del... che scrive il rapporto? andiamo un po', andiamo un po', ok, mi sta un po' più... va bene, allora, se siamo rientrati un po' su questi concetti, adesso che cosa abbiamo fatto? abbiamo utilizzato un metodo pubblico, pubblico per poter valorizzare degli attributi privati, in effetti questi erano gli attributi, gli unici che aveva la nostra classe razionale, e questo si può usare questo metodo, però in realtà è pleonastico, perché quando viene definito un oggetto di una certa classe, gli attributi di quell'oggetto non possono rimanere, non è bene che rimangano non valorizzati, per cui nella programmazione orientata agli oggetti, l'operazione di definizione di un oggetto, automaticamente comporta che viene dato un valore di default agli attributi, che devono essere noti all'utente della classe. Questa operazione viene fatta automaticamente da un metodo particolare che è all'interno di tutte le classi, che anche se non lo definite voi, lo definisce il compilatore, che si chiama costruttore della classe. Il costruttore, l'abbiamo accennato, la settimana scorsa, è un particolare metodo che, torno a dire, se non lo mettete voi, ce lo mette direttamente il compilatore, caratterizzato da queste due caratteristiche. Primo, che questo metodo, cioè questa funzione, ha un nome che coincide con il nome della classe. Per esempio, vedete qui, razionale, razionale. La seconda caratteristica del costruttore è che è una funzione che non restituisce alcunché, non restituisce neanche void. serve solo a dare un valore di default agli attributi dell'oggetto quando si definisce l'oggetto. Ora, se non specificate il valore, mette tutto a zero. ma normalmente non è la cosa più giusta da fare. Nel caso in particolare del numero razionale, potremmo mettere a zero il numeratore, ma mettere a zero il denominatore significa mettersi nei guai. e quindi è bene con una classe di questo genere definire un metodo di inizializzazione almeno uno, qui ne vedete tre addirittura, che faccia l'inizializzazione giusta. E come si fa? Ovviamente lo dobbiamo mettere nella, per poterlo poi utilizzare questo costruttore in maniera specifica, dobbiamo metterlo nella parte public e qui abbiamo tre esempi. In un primo caso abbiamo un costruttore che non ammette parametri in ingresso. Quindi verrà lanciato senza passargli alcun parametro, perché non li accetta. Che cosa andrà a fare nel suo codice? Ho messo qui l'implementazione del costruttore direttamente nella classe. come sapete si può fare. Questa viene detta implementazione in line del metodo dentro la classe stessa, non fuori. Qui vedete che ho inizializzato il numeratore a zero e il denominatore a uno. Allora, la domanda è questa qui che adesso riporto direttamente sul computer. La domanda è non posso per caso inizializzare direttamente qui? Allora, grazie per la domanda, perché effettivamente può venire questa idea strampalata, ma è con simpatia e rispetto parlando, più simpatia e rispetto e simpatia tutte e due, è una cosa un po' strampalata. Perché? Vi ricordate come siamo arrivati alla classe? La settimana scorsa vi ho fatto vedere che si arriva alla classe partendo dalla struttura. non so se vi ricordate. Il concetto di definizione di classe è analogo al concetto di definizione di struttura. Non ha local con chi in memoria. È la definizione di un tipo di dato. Quando invece noi andiamo a usare l'operatore di assegnamento stiamo assegnando un valore a una variabile. E quindi significa che la variabile sta sulla RAM. Ma in realtà quando noi scriviamo struct razionale o class razionale e poi specifichiamo gli attributi i campi o le funzioni non stiamo allocando proprio niente in memoria. Non esiste un num e un tnum sulla RAM. Non esiste. Per cui non possiamo dargli un valore. Non esiste. Che cos'è questo int num qui? È semplicemente una specie di template concettuale che dice che questa struttura questa classe qualora venisse utilizzata per allocare un oggetto cioè per definire un oggetto e quindi a quel punto ci sarebbe un oggetto in memoria sulla RAM allora quell'oggetto dovrebbe contemplare due interi uno che si chiama num uno che si chiama dem su 4 bytes 32 bit allora a quel punto l'oggetto sarebbe allocato sulla RAM e quindi andrebbe valorizzato il campo di quell'oggetto ma come tu non puoi valorizzare un campo di una struttura così non puoi valorizzare un attributo di una classe in quanto che né la struttura né la classe in quanto tali stanno sulla RAM sono direttivo al compilatore ancora allora num non esiste sulla RAM e quindi non gli possiamo dare un valore allora perché lo possiamo dare qui perché questa è tutta un'altra cosa c'entra niente questo qui stiamo dicendo che c'è una funzione e come abbiamo visto noi potremmo anche far così togliere totalmente l'implementazione della funzione metterla da un'altra parte e scrivere potremmo anche far così a questo qui stiamo definendo la funzione qui non stiamo definendo la funzione cioè qui c'è il prototipo della funzione e abbiamo messo questo codice in line che sta a significare semplicemente che quando si definirà un oggetto di questa classe automaticamente bisognerà predisporre un puntatore a una funzione che avrà quel codice lì e il codice non farà altro che allocare a num assegnare al num il valore 0 e al den il valore 1 ma num e den saranno num e den dell'oggetto di quella classe qua quando io chiamo razionale e x viene allocato sulla ram un oggetto x della classe razionale x avrà un num e un den sulla ram razionale non ha un num e un den perché razionale non è sulla ram x è sulla ram x è l'oggetto è un oggetto della classe tra i detali io sono un uomo e appartengo alla classe degli uomini ma la classe degli uomini non ha sostanza è un puro concetto è un'astrazione concettuale tutto quello che trovi da qui a qui è pura astrazione concettuale questo invece qui è un oggetto reale e sta sulla ram mi seguite? dove? qui tu hai sempre fatto una cosa assurda che non si può fare allora cosa significa questo? non si è mai potuto fare adesso nel C++11 si può fare grazie questo è un warning perché cosa significa adesso che te lo consente di fare? bravissimi questa qui è una possibilità che il C++11 vi da vedete anche quindi l'evoluzione dei linguaggi che vi consente di eventualmente bypassare il concetto di costruttore come lo vedete qui adesso però questo è il metodo che si usa da sempre quello che vedete qui in particolare in questa riga qui questa cosa qua è una cosa che confonde le idee però perché no vabbè poi sono questioni di punto di vista secondo me confonde le idee perché torna a dire definire una classe significa definire un concetto astratto e questo può far credere che sto allocando qualcosa in memoria ma non è così significa solo che quando allocherò l'oggetto in memoria lì nella riga 19 num e dem automaticamente avranno quei valori ecco però non tutti i compilatori dopo te lo passano questo ecco non è retrocompatibile non so se il C++11 sarà un'evoluzione di quell'altro non lo so se sarà si affermerà allora per non sbagliare non lo fate perché ripeto fa confusione perché ti fa credere che tu stai assegnando una variabile ma in realtà quel numero lì non è una variabile non so se mi sono spiegato sarà una variabile solo quando sarà allocato l'oggetto di quella classe allora esisterà la cosa una cosa interessante è che qui di costruttori ne avete tre già questo ti fa capire che assegnarne solo uno lì in qualche maniera sarebbe stata una scelta limitativa abbiamo tre costruttori uno alla riga 8 uno alla riga 9 uno alla riga 10 che si differenziano e qui torniamo un pochino indietro nel tempo perché uno non ha argomenti uno ne ha uno e uno ne ha due vi ricorda niente questo modo di fare non ho capito si può essere visto come un overload della funzione bravo l'abbiamo visto a suo tempo quando abbiamo detto che è una funzione si possono passare che le funzioni possono avere degli argomenti per default le cose funzionano così per capirci se io definisco un oggetto senza passare gli parametri allora sto facendo riferimento a un costruttore di quella classe che non accetta parametri per cui partirà quel costruttore lì se gli passo un parametro ovviamente partirà la funzione che ammette un solo parametro se ne passo due analogamente partirà la seconda che cosa sto facendo in pratica e sto definendo x ditemelo voi che cosa avrà come valore numeratore e denominatore è una domanda retorica non era una vera domanda avrà zero al numeratore e uno al denominatore quindi sarà il numero zero se questo qui è un altro oggetto sempre della classe razionale si chiama y questo oggetto ma all'atto della creazione gli passo un parametro quale di questi tre costruttori partirà il secondo e che assegnerà a num esattamente il valore che gli ho passato e il denominatore assegna uno e quindi sostanzialmente sarà il numero quattro se invece glieli passano tutte e due partirà il terzo costruttore e il numero sarà 22 settimi ho cambiato la stampa ho tolto i converti bravo bravissimo come fai a metterli con un costruttore unico ciao degli studenti veramente bravissimi posso compattare i tre costruttori in un costruttore solo sfruttando il concetto di argomenti per default che abbiamo visto qualche tempo fa che è una caratteristica del C++ guardate la differenza qui abbiamo gli argomenti passati come definiti come normali argomenti con gli argomenti per default che il C++ ammette io nella definizione dell'argomento formale gli assegno con l'operatore di assegnamento un valore di default dico per default n0 e per default denominatore 1 così mi metto al riparo in questo caso da divisioni per 0 e dopodiché dico comunque se non passo argomenti num prende il valore di n che è 0 e den prende il valore di d che è 1 se invece gli passerò argomenti potrò andare a modificare questi valori 0 e 1 e tutto il resto è come prima e quindi aveva intuito perfettamente dove stavano andando a parare con questo metodo qui io posso compattare i costruttori in uno solo e semplifico la struttura del codice vediamo se funziona funziona tutto come prima per capire bene vado piano x è chiamato è definito senza passare argomenti quindi cosa succede non ci sarà nessun rimpiazzo dei valori di default nessuno e quindi num prende il valore di n ed n è 0 per default den prende il valore di d e d è 1 per default e quindi x è 0 su 1 y passa 4 e quindi 4 si intende che va a rimpiazzare il primo siccome non passa un secondo argomento il secondo sarà da default quindi n scusate 4 rimpiazzerà in n 0 e invece d non viene rimpiazzato rimane 1 4 su 1 e da ultimo se io definisco l'oggetto z dando gli due parametri il 22 va a rimpiazzare lo 0 in n e il 7 va a rimpiazzare l'1 in d ok questo è il concetto di costruttore allora siccome il costruttore viene sostanzialmente utilizzato per inizializzare gli attributi di una classe ma può anche essere usato per far partire una funzione magari una funzione privata per esempio che deve partire sempre appena all'occhio un oggetto di quella classe comunque se viene utilizzato solo per inizializzare degli attributi privati della classe il C++ mette a disposizione una struttura sua che viene chiamata lista di costruttori che sostanzialmente serve per fare la stessa cosa però in maniera forse più leggibile guardate la differenza questa è esattamente la stessa classe e anche dopo l'applicazione la cliente è la stessa ma è esattamente la stessa classe dove abbiamo scritto in maniera diversa il costruttore qui avevamo nel codice del costruttore specificato come il costruttore andava ad inizializzare gli attributi privati della classe qui invece il codice del costruttore è vuoto non fa niente e invece gli attributi della classe sono inizializzati con una sintassi un po' sorprendente vengono inizializzati dopo il prototipo del costruttore mettendo due punti una virgola per separare ciascuno degli attributi e poi nome dell'attributo e fra parentesi il valore che prende scusami allora ripeto si prende il costruttore finito il prototipo del costruttore prima del punto e virgola anzi prima del codice ci si mette due punti poi si va a prendere un attributo lo si scrive e fra parentesi gli si passa ci si mette qui il valore di quel attributo qui in questo caso ci abbiamo messo n che n è passato come parametro ci potevamo pure mettere 0 per esempio potevamo anche fare così qui vogliamo sfruttare il concetto di prima di passaggio di argomenti per default al costruttore e quindi ci lasciamo n e d questo modo di definire all'interno del costruttore i parametri si chiama lista dei parametri o vettore di parametri del costruttore sinceramente non so se è tanto più bello o più facile così comunque siccome il codice che trovate in giro è molto scritto così è bene sapere cosa significa faccia questa la sintassi della cosiddetta lista di parametri del costruttore sì oggi non è che abbiamo tanti concetti nuovi però sono concetti che poi li vedrete quindi sto parlando dei futuri programmatori proprio professionisti e quindi concetti nuovi lo vediamo dopo domani mercoledì chi ci sarà parleremo di concetti veramente importanti bene tutto ok allora abbiamo detto che noi possiamo utilizzare dei metodi per andare a valorizzare pubblici per andare a valorizzare gli attributi privati e però abbiamo detto che per fare questo ci sta il concetto di costruttore quindi usiamo il costruttore quindi assegna l'abbiamo eliminato abbiamo rimpiazzato col costruttore razionale ma soprattutto in java vengono spesso utilizzati dei metodi per andare a leggere gli attributi privati quanto valgono perché io per esempio definisco un oggetto definisco un altro oggetto definisco un altro oggetto e ogni volta che definisco un oggetto saranno valorizzati gli attributi privati quell'oggetto poi magari ci saranno delle funzioni che le cambieranno poi a un certo punto io voglio andare a vedere quanto va con questi attributi privati posso fare questo ovviamente non me lo fate neanche compilare perché non può andare per lo stesso motivo per cui non potevo manco valorizzarlo non posso né scriverlo l'attributo privato né ovviamente leggerlo quindi questo non lo posso fare allora per andare a vedere i valori degli attributi privati si usano dei metodi che da java prendono in java sono stati chiamati metodi getti perché get vanno a prendere i valori che sono inaccessibili di attributi privati supponiamo per esempio che io voglio andare a vedere quanto vale il numeratore di un certo oggetto e quanto vale il denominatore mi costruisco due metodi apposta per farlo uno lo chiamo numeratore uno lo chiamo denominatore li definisco con questo attributo qui costante perché non andranno a modificare il valore degli attributi non serviranno per poterli andare a segnare a dargli un valore ma serviranno solo per tirargli fuori i valori di quegli attributi ma non per modificarli vedete che il codice beh però non è detto che lo passi per riferimento ma infatti io non li passo per riferimento non posso modificarli quindi dovrei io andare a passare per riferimento per modificarli sì no tu potresti avere un metodo come assegna di prima che li va a modificare il primo assegna che abbiamo visto questo qua li va a modificare num ugual numeratore e den ugual denominatore quello che stiamo guardando adesso invece non va a modificare numeratore denominatore non è che num ugual qualcosa viene solo restituito num non c'è problema lo puoi togliere è uguale però mettercelo mettercelo è utile perché innanzitutto fa capire a chi legge il codice che questo metodo non va a modificare se poco poco successivamente ti venisse in mente di andarlo a modificare se l'idea originale era che non doveva modificare era un metodo ghetti quel console è una specie di paletto che ti impedisce il compilatore di andarlo a modificare e quindi è uno stile di programmazione buono perché ti ricorda a te e a quelli che verranno dopo di te che nell'idea originale c'era che quel metodo ghetti qui è banale fa solo un return però se ci avesse avuto 20 righe di codice magari un domani ti viene in mente che potresti andare a num a dargli un valore se lo fai sballa tutto il senso della classe e l'utente della classe si troverà un comportamento che non immaginava mettendoci questo const ti mette a riparo da futuri guai che potrebbero fare quelli che andranno a lavorare sulla tua classe dopo di te o te stesso dopo che avrai scoperto che soffri questo vale per me di alzheimer ok allora che cosa fanno questi due metodi non c'è niente da di restituiscono il valore dei due attributi a chi a chi li chiama come possono essere usati ecco qua non potevo fare caut x punto num non lo potevo fare però posso fare caut x punto numeratore perché numeratore sta nella parte public ok quindi supponiamo che questo fosse stato float io non so se capite se io adesso faccio float l'utente della classe e poi magari qui che faccio lo faccio lo facciamo beh se no non si vede l'effetto dunque stiamo facendo esperimenti io mi auguro che anche voi facciate queste prove perché sono istruttive anche a me mi sta istruendo in questo momento cosa sto cercando di fare vabbè ma me la prendo sempre scusate infatti non capivo cosa stava succedendo no quello che volevo cercare di dire volevo fare un esempio al volo per far capire che con un metodo di questo genere voi potete in qualche maniera penso di esserci riuscito bloccare il modo in cui l'utente della classe vedrà l'oggetto l'attributo dell'oggetto dopodiché voi potreste cambiare il tipo compatibilmente però con quello che fa il metodo Getty il concetto che sto cercando di illustrare è questo che il programmatore della classe ha libertà di modificare la struttura degli suoi attributi salvo nella nelle interfacce pubbliche creare le condizioni per cui la cosa non si ripercuota sull'utente della classe perché cosa può accadere può accadere che c'è qualcuno che ha utilizzato la vostra classe e ha sviluppato un'applicazione con la vostra classe voi poi dopo l'anno dopo li andate a modificare la classe quello si riscarica la classe la ricompila e tutto il suo programma non gira più invece se l'interfaccia è fatta in maniera tale che a chi utilizza la classe non cambia nulla la classe sarà riutilizzabile sì però mettiamo conto che io qui per farmi inverti o per farmi stampa avevo avuto bisogno di cambiare e di avere una da flotta a double perché avevo bisogno di una precisione maggiore con questo concetto qua io lo posso fare perché la cosa non si ripercuoterà sull'applicazione client se invece io avessi avuto questi due nella parte public sarei andata a modificare la parte public la cosa si sarebbe ripercorsa se avesse avuto nel main x.num e adesso che il num da inter mi è diventato double il comportamento sarà totalmente differente nel client invece queste modifiche che sto facendo siccome le sto facendo solo sulla parte private non sto modificando la parte public non avranno effetti sul cliente della classe questo è l'essenza di questo shock esperimento che sto facendo adesso per dare il senso che voi programmatori della classe andrete a modificare la parte privata ma se non modificate la parte pubblica chi utilizza la vostra classe supponiamo che ci stanno 50 software in giro che stanno utilizzando la vostra classe 50 clienti avete avuto 50 aziende che stanno utilizzando un software che fa uso della vostra classe negli aggiornamenti che rilascerete della vostra classe se andate a modificare la parte private non ci sarà nessun bisogno di dirgli guarda che la tua applicazione non gira più perché continuerà a girare come prima bene andiamo avanti e andiamo un po' verso le ultime cose che volevo dirvi oggi in preparazione della lezione di dopo domani abbiamo detto che nella parte private normalmente ci vanno gli attributi però ho detto questo ma anche me lo rimangio perché nelle classi complesse ci vanno nella parte private anche delle funzioni man mano che diventa complessa la struttura della vostra classe ci avrete questa necessità per esempio supponiamo che io adesso voglio lavorare con numeri razionali e voglio fare in maniera tale che la rappresentazione interna di questi numeri sia sempre ridotta ai minimi termini perché questo mi consente poi dopo quando vado a fare le moltiplicazioni eccetera di poter avere maggior cioè io ho una frazione la voglio ridurre ai minimi termini per poterla poi dopo più facilmente modificare con successive elaborazioni allora un modo per far questo è quello di concepire una procedura che fa la riduzione ai minimi termini però siccome questa qui è una funzionalità interna alla mia classe non la voglio esportare non la voglio mettere a disposizione del cliente perché serve solo la mia classe non servirà l'applicazione serve a me per i miei scopi interni la metto come private si vede da giù in fondo grazie e siccome mi sta in mente che è una cosa che la voglio fare a priori cioè appena alloco un oggetto voglio subito un numero razionale voglio subito fare la riduzione ai minimi termini per esempio se io definisco un oggetto 220 220 settantesimi voglio che in realtà mi venga memorizzato 22 settimi e non 220 settantesimi perché 22 settimi poi sarà più facile da moltiplicare di 220 settantesimi avrò maggiore efficienza e anche potrò utilizzare i range dei numeri per maggior allora che faccio me la faccio partire automaticamente cioè metto la funzione private dentro il codice del costruttore ok ci siamo come la implementiamo questo è un buon esercizio come se fosse un esercizio d'esame di prova di programmazione implementa una funzione per prendere numeratore denominatore e ridurre ai minimi termini scusa ho bisogno della funzione massimo comundivisore ed eccola qua questa l'abbiamo incontrata un po' di tempo fa il massimo comundivisore di m ed n se m facciamo lo swap a proposito swap è implementata già dentro il c++ e quindi potete utilizzare così questa è la più efficiente che c'è ovviamente quella che vi ho fatto vedere tempo fa bit a bit e poi quello che vedete qui è l'algoritmo per calcolare il massimo comundivisore di due numeri sarebbe l'algoritmo di Euclide di cui abbiamo parlato mesi fa ormai poi il riduci eccolo qui che cosa fa? fa una serie di operazioni che adesso ve le potete guardare un po' per per esercizio vostro che sostanzialmente fanno quello che vi sto dicendo e cioè vanno a far sì che il numeratore e il denominatore del del numero frazionario siano ridotti ai minimi termini adesso volevo se la metto a commentarla ce ne passa minima un quarto d'ora e quindi ve la vedete per conto vostro ve la metto sulla slide a questo punto questo metodo riduci che a sua volta chiama MCD lo faccio partire dentro il costruttore il resto è tutto uguale all'esercizio precedente compilo vi faccio vedere io ho definito qui per esempio facciamo 40 decimi chiedo di stampare il valore del numeratore del dominatore di questo oggetto che ho appena allocato qui è y mi dovrebbe stampare 40 e 10 invece mi stampa 4 1 perché ha ridotto ai minimi termini allora a parte l'esercizio di riduzione ai minimi termini il concetto di questo esempio è che le funzioni che nella parte privata ci possono stare delle funzioni dei metodi che ovviamente come tali non possono essere chiamati dall'applicazione client perché sono privati possono essere chiamati solo dal dalle funzioni public dell'oggetto stesso fra cui il costruttore se lo chiama il costruttore questa è una funzione privata che parte appena viene definito l'oggetto era quello che volevo fare per risparmiare memoria e tutto il resto e quindi memoria no per avere un'applicazione più efficiente del numero nazionale va bene andiamo verso la fine parliamo del costruttore di copia no troppo allora di che cosa stiamo parlando stiamo parlando del fatto che quando si passa un un oggetto a una funzione per valore tipicamente se passiamo una variabile a una funzione come sapete per valore la funzione si crea una copia di quella variabile cosa succede se passiamo un oggetto a una funzione la funzione si copia si crea una copia di quell'oggetto ebbene la funzione si creerà anche una copia del costruttore questo costruttore viene detto costruttore di copia e dopo domani speriamo che faremo degli esempi per capire a cosa serve il costruttore di copia intanto vi dico che comunque il compilatore quando crea un oggetto crea un costruttore di default ma anche un costruttore di copia di default qui li ho specificati tutti e due ho voluto dentro questa classe razionale specificare sia il costruttore cosa che abbiamo fatto fino adesso che il costruttore di copia che cos'è un costruttore di copia è un costruttore che può prendere come argomento un riferimento a un oggetto dello stesso tipo e in questo caso io che cosa faccio con questo costruttore di copia vado a segnare al numeratore a num all'attributo dell'oggetto r dell'oggetto che utilizzerà questo costruttore io lo scusa esattamente il numeratore dell'oggetto che gli passo e lo stesso anche per il denominatore guardiamo l'effetto se io chiamo al loco x e gli passo 220 70 viene creato un oggetto x che ha 220 al numeratore e 70 al denominatore guardate qui cosa sto facendo io qui ingrandisco un po la riga 22 la riga 22 definisce un oggetto y della classe razionale e gli passa l'oggetto x come argomento l'effetto della riga 22 è che viene generato un oggetto y uguale all'oggetto x stiamo simulando si può fare quello che avviene se io passo un oggetto a una funzione si crea un oggetto copia di quello che io gli sto passando e fra di loro si passeranno i due oggetti i valori degli attributi mediante il costruttore di copia guardiamo l'effetto allora ci sono due oggetti a questo punto in memoria x ed y che hanno esattamente gli stessi attributi ma gli oggetti sono due x che l'ho definito passando direttamente i valori e y che l'ho definito dicendo guarda che deve essere una copia di x la domanda è questa qui è una domanda molto intelligente e mi fa capire che hai capito il concetto quindi adesso la domanda è lecita qual è la differenza fra queste due operazioni si accettano si accettano suggerimenti no voglio dire opinioni pareri però sono entrambi dello stesso oggetto della stessa classe l'operatore di assegnamento chiama automaticamente il costruttore di copia si è uguale perché l'operatore di assegnamento chiama il costruttore di copia nella inizializzazione sicuramente nella inizializzazione non c'è un bravo dubbio non nell'inizializzazione pure credo però ci devo ragionare un attimo io sopra quando lo dichiaro il costruttore di copia gli dico quali appunti di copiare nel quando lo dichiaro nella piazza quindi gli dico quali potrei anche non fargli copiare tutti sì puoi non fargli copiare tutti quindi può avere un tipo in realtà perché con l'uguale assegnamento gli ripasso tutti quanti fare quali mentre così potrei dargli alcuni così crea una copia perfetta esatto invece di fare un portatore di copia magari mi passo il numeratore ci va a fargli fare una forma ma vogliamo se allora la domanda era questa qui supponiamo che io bravi no no mi piace molto questa classe perché vedo che reagite molto bene stiamo parlando di questo no grazie è di questo che stiamo parlando compiliamo hai visto come ci togliamo i dubbi questo è sicuramente sì sto pensando anche ad altro veramente che mi fa pensare anche la tua domanda però in pratica abbiamo appurato che è l'assegnamento utile fa partire il costruttore di copia perché abbiamo modificato il costruttore di copia in realtà è da modificare l'oggetto e abbiamo visto che l'oggetto viene modificato mi sa che questo ci tornerà mi sa che questo ci tornerà utile quando faremo gli esercizi giovedì giovedì quindi se non scriviamo c'è una copia e ne fa una copia come si faceva con gli strani si trova un pezzo di memoria tutto interno mentre qui si sono d'accordo copia tutto il pezzo di memoria bit a bit letteralmente è così sono d'accordo il costruttore può essere utilizzato per fare un overload dell'assegnamento perfetto vedete questi esercizi sembrano così pacifici in realtà sono utili perché ci fanno va bene allora avrete la possibilità di ragionarci io vado verso la fine propongo un altro esempio che è anche questo qui 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 dentro il costruttore di copia lancio proprio una una stampa per capire quando viene attivato il costruttore di copia perché il costruttore di copia viene attivato quando l'oggetto viene assegnato abbiamo appena visto quando l'oggetto viene passato per valore a una funzione e quando l'oggetto viene copiato per mezzo di una dichiarazione con l'inizializzazione che sostanzialmente ripropone questo concetto qui perché nell'inizializzazione c'è l'uso dell'assegnamento allora per vedere quando parte mi sono messo questa stampa e poi mi sono fatto una funzione che prende questo oggetto come parametro dentro la funzione lo assegna l'oggetto ha un suo oggetto locale e poi restituisce l'oggetto locale la domanda a voi che avete seguito tutto e con questo stiamo per concludere la lezione di oggi quante volte sarà stampato il costruttore di copia in output? c'è chi dice 3 me la sto riguardando pur io quiz d'esame dato questo codice quante volte viene stampato il costruttore di copia? risposte? mi sono arrivate 2-3 forti e chiari 4 perché? allora qui perché no? qui qui anche così avendo uguale qui allora qui perché viene chiamato? perché viene passato questo oggetto alla funzione questo è proprio il costruttore di copia che si usa qui perché? perché viene passato l'oggetto Y se gli passo X cambia qualcosa? allora 2 l'ho vista la terza l'ho vista la quarta non l'ho vista ora mi sta venendo la curiosità pure a me che non mi ricordo Z uguale andiamo? abbiamo finito eh? andiamo allora ci abbiamo un modo per motivi per meditare l'ultimo l'ultimissimo concetto è molto semplice il distruttore è l'ultimo automaticamente quando viene definito un oggetto quando viene definita una classe se non la duffate voi il compilatore definisce anche un distruttore all'interno di quella classe così come definisce un costruttore automaticamente definisce un distruttore eccolo qui qui l'ho definito proprio all'interno della classe che cos'è il distruttore è l'ultimo concetto di oggi è un metodo public che serve per liberare la memoria allocata per quell'oggetto quando quell'oggetto non non ha più un utilizzo cioè quando finisce la visibilità di quell'oggetto si è il concetto del delete per la memoria allocata dinamicamente ma è semplicemente il concetto che fa un qualunque compilatore quando una variabile che avete definito int x dentro un blocco arrivate alla fine di quel blocco per cui si esce da quel blocco a quel punto quella variabile è inutile perché non è più raggiungibile e il compilatore automaticamente mette a disposizione la memoria di quella variabile perché possa essere riutilizzata è lo stesso concetto qui però qui è importante perché gli oggetti di cui parliamo possono essere molto grandi anche come dimensione e quindi la raccomandazione è quella sempre di definire anche un distruttore all'interno della classe nella ram nella ram cioè sempre quando lo scriviamo nella è un metodo comunque della classe razionale che si anche l'ip sta sulla ram nel segmento di codice dove è stata allocata nel segmento di dati dove è stata allocata questa variabile facciamo un esempio io qui nel distruttore come si fa a definire il distruttore ha il nome della della classe non ha parametri in ingresso e è preceduto dalla tilde la tilde su windows alt 126 se no control alt gr no alt gr senza control e accentata accentata allora questo qui praticamente che cosa fa automaticamente libera la memoria allocata per quell'oggetto guardate l'applicazione l'applicazione definisce un oggetto x della classe razionale dentro un sottoblocco e stampa adesso x esiste fra i blocchi non c'è quell'oggetto e quindi la memoria sarà stata liberata come facciamo a verificare che è stata liberata l'oggetto nasce qui esiste dentro il blocco fuori dal blocco l'oggetto non esiste perché il distruttore ha liberato la memoria anche se qui è solo cioè l'ho scritto io ovviamente cosa succede se io adesso scrivo x.stampa cosa succede non compila perché sono fuori dallo scope e se invece lo metto dentro che fa allora il distruttore grazie il distruttore c'è lo stesso se non lo mettete però è una regola di buono stile di programmazione quello di definire il vostro distruttore perché comunque probabilmente quando il vostro oggetto terminerà di esistere e cioè quando finirà il blocco in cui è stato definito probabilmente qualche azione dovreste farla per esempio assicurare che certi file sono stati chiusi che l'oggetto aveva aperto e quindi come abitudine mentale è bene pensare ok ho finito la mia classe ho lavorato un mese adesso il distruttore cosa dovrà fare quasi niente va bene però comunque ce lo scrivo noto razionale ecco non gli faccio fare niente se non lo fate voi questo è quello che fa il compilatore il compilatore lo fa ovviamente però se la vostra classe è una classe complessa vi verrà in mente di fare voi qualche cosa sicuramente lì dentro bene questi erano esercizi di richiamo avete visto anche degli esempi di quiz sulle classi erano comprese qui dentro altri quiz possibili sulle classi li vediamo giovedì invece dopo domani è un concetto importante il concetto di ereditarietà faremo solo teoria dopo domani bene la lezione oggi è finita ci vediamo dopo domani grazie a tutti grazie a tutti